Radio OK in collaborazione con Magilla Spettacoli presenta Dimmi la tua interviste con i personaggi e gli artisti del momento ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30 in diretta live sulla pagina Facebook Radio OK conduce Vedi DJ In diretta live sulla pagina Facebook, mi vedete? Sì, sì, eccomi qua Ci sono oggi marzo 2021, secondo giorno di lockdown Lockdown di questa terza ondata, mi auguro che finisca presto perché sta per arrivare la primavera anche se oggi la giornata è un po' piovosa, qui nella mia città, nei paraggi, in tutta la provincia ha iniziato a più vicinare, anche quattro voce ha fatto quindi diciamo che il tempo marzo esce il sole e prendi l'ombrello quindi diciamo che stiamo là, ma oggi tengo a parlare di un'associazione molto conosciuta e bella direi, perché io sono molto legato sia all'associazione ma alla persona che fa la presidente perché è una persona veramente ottima, eccezionale, ha il cuore d'oro e io non lascio, lascio a lei diciamo il palcoscenico della diretta e vi presento a voi tutti amici di Radio OK la signora, nonché dottoressa Tonia Enriquez eccola qua, buonasera Tonia e benvenuta nella pagina Radio OK grazie a te dell'invito, grazie Radio OK grazie per avermi dato l'opportunità insomma di essere con te questa sera Diciamo che Angeli di Quartiere ha una lunga storia Angeli di Quartiere nasce quasi 4-5 anni fa se non erro esattamente 5 anni fa 5 anni fa ovviamente si è fatto tanto nella Lecce ma anche nelle varie sedi dislocate nonché qualche mese addietro avete aperto anche un'altra sede proprio nella città a due passi dalla porta di Lecce quindi assurbo ma questo lo approfondiamo dopo il discorso dell'associazione ma voglio presentare un attimo a Tonia Enriquez chi è Tonia Enriquez prima? Allora innanzitutto sono una cittadina attenta, accorta alle necessità del cittadino lo sono sempre stata e questo mi ha consentito anche di poter prestare più ascolto a quelle che possono essere le stanze e i bisogni della comunità questo l'ho iniziato a fare attraverso il mio lavoro e stando ovviamente a contatto con tante persone si viene anche a conoscenza di quelle che possono essere le criticità o le potenzialità di una città e quindi sul volontariato ci sarebbe tantissimo da investire da parlare da approfondire e lo si può fare secondo me solo attuando una buona e sana pratica il volontariato per me è come se venisse potesse essere interpretato come una vera e propria dipendenza benigna da parte di una società che attenta appunto ai bisogni della comunità prima di passare a tutto ciò facciamo step by step perché noi nella vita io e te ragioniamo sempre step by step da quando ho conosciuto Tonia lei dice Davide un passo alla volta bisogna fare chiaramente questi sono molti che ci siamo detti molto molto tempo fa nella sede in via Maruggi non faccio noi per non dire per non dire via era il 2012 2012 stiamo parlando di quasi dieci anni fa e poi hai visto è giunta l'ora veramente di presentare di presentare Tonia Rivez perché quando una persona ci tiene io ho fatto questo supposto quando una persona ci tiene l'amicizia in qualsiasi momento si aprono le porte ma parliamo un pochettino adesso di associazione Angeli di Quartiere Angeli di Quartiere dove ha sede principalmente tra l'altro scusami la piccola momentesi aspetto un attimo la regione Rivez è stata anche responsabile COC quindi il COC della città di Lecce no qui ti corrego qui ti corrego c'è stato un errore in fase proprio di presentazione io ho avuto l'onore di poter operare presso il centro COC di Lecce non come responsabile perché non ne sarei all'altezza ma ho conosciuto il responsabile del COC di Lecce che è appunto il carissimo geometra lì Parigatano che è una persona straordinaria che porta avanti una squadra di ragazzi di volontari la cui attività è veramente eccelsa quindi è stata l'opportunità per conoscere proprio da vicino e toccare con mano l'operato della protezione civile e loro hanno avuto modo attraverso me attraverso i pochissimi volontari all'inizio Davide eravamo soltanto tre poi man mano abbiamo appunto grazie alla potenzialità dei social abbiamo chiesto aiuto in diretta e si sono uniti a noi due squadre di riders che sono appunto dei ragazzi appassionati di velocità e in pieno lockdown non hanno assolutamente corso sulla moto hanno lasciato la loro velocità e si sono dedicati interamente alla città consegnando proprio le buste che noi preparavamo proprio in protezione civile quindi veramente le due squadre di Keepers e di Devils sono state veramente eccezionali io ne approfitto anche proprio per ringraziarli pubblicamente non ci hanno mai ci hanno preso per mano non ci hanno mai lasciato quindi anche questo questo di fonore perché Bo ha detto Pocanzi ha detto che proprio la la cosiddetta amore per il volontariato uno che fa volontariato come si può diventare dipendente di un'altra cosa si può diventare dipendente anche per il volontariato e molto spesso il volontariato può essere un'anima pulsante proprio dell'individuo umano questo è studiato in psicologia quando uno fa bene giustamente si rende come dire la vita diventa più serena se lui fa del bene a qualcun altro chiaramente è più quello che ricevi Davide scusami se ti interrompo è più quello che ricevi tu nel dare che quello che dai sostanzialmente quindi è una gratificazione che ripaga di tutto non hai bisogno di sentirti dire grazie così quando porgi un bicchiere d'acqua a una persona che chiede e dice di voler bere ma la maggior parte delle persone alle quali noi diamo sono persone che non chiedono alle quali arriviamo attraverso delle segnalazioni attraverso un vicino che nota l'assenza su strada o piuttosto il silenzio in una casa quindi è veramente diventa un dipendere dalla necessità personale proprio di darsi da fare e di riuscire a dare un piccolo contributo ogni giorno nei confronti di persone più fragili chiaramente dove ha sede questa associazione perché io dico allora noi siamo nati a Lecce abbiamo però due sedi operative la prima l'abbiamo aperta poco prima del Natale scorso a Surbo siamo in via Petrarca 36 nella cittadina di Surbo e adesso siamo anche abbiamo aperto poco prima anche di Natale a Castromediano e quindi queste due sedi che sono le chiamiamo sedi operative sono il quartier generale di quelle che possono essere le dispense dove il cittadino può consegnare le proprie donazioni che vanno dalla scorta di alimenti non deperibili a addirittura il vestiario che raccogliamo non essendo recentro raccolta noi ritiriamo il vestiario solo delle taglie e del sesso delle persone e delle famiglie che seguiamo e che entrando in punta di piedi nelle famiglie alle quali chiediamo se necessitano oltre che di alimenti anche di vestiario particolare Tonya scusami un secondo perché proprio in questi giorni tu che sei un addetta proprio del servizio del settore io chiedo perché mi sono giunti anche su internet anche sulla mia pagina facebook dei messaggi dove dicono ma è normale che la raccolta di indumenti con con il fatto della situazione del covid si può fare io gli ho sempre detto guarda sicuramente si può fare chiaramente non è che tu hai una storiazione di roba che tu non la metti magari pure in giallina e pure rovinata però chiaramente e questo mi saprei dire anche tu più tecnicamente come come si svolge la situazione sono comunque c'è una sorta di cernia delle robe vengono smistate le robe quindi non è che vengono cernite diciamo vengono smistate le robe che non sono buone da quelle quindi facci un bilancio di quanti indumenti hai raccolto Tonia perché lecce è una cosa per terminata allora praticamente il purtroppo devo dirti che proprio in un anno solare quello che abbiamo comunque stiamo vivendo appunto dal marzo scorso in chiusura più o meno prolungata e i centri raccolta sono stati chiusi quindi il disagio di molte persone che molto probabilmente ti chiedono se la raccolta continua meno sia nei paesi ma anche qui in città sono stati proprio rimossi contenitori gialli questo ti dico ci sono i pro e i contro nel senso che purtroppo per cattiva formazione informazione anche da parte dei cittadini succede è successo spesso che questi contenitori più che fare una raccolta di vestiario utile per essere riutilizzato venivano presi proprio come vere e proprie pattumiere ed è il rischio che è successo anche per molti centro raccolta nel senso che molti centro raccolta si trovano anche indumenti come dici tu usurati messi ridotti male se non peggio e quindi ovviamente quello che poi è la missione quella di considerare il vestito usato e quindi usato ma in buone condizioni pronto per essere riutilizzato da un altro soggetto più fragile che in grado non è in grado di acquistarlo e c'è una sostanziale differenza quindi che è successo intanto hanno chiuso i centri raccolta e hanno tolto i bidoni intanto con l'emergenza covid si è bloccato proprio in generale la raccolta a prescindere dell'usato perché noi siamo capitati ti dico un esempio pratico con il voler aiutare la Turchia dopo il terremoto dello scorso diciamo proprio primavera scorsa così come abbiamo aiutato l'Albania proprio a distanza quasi di nove mesi fa poco prima di Natale ci fu una grossa scossa in Albania e insieme a dei commercianti degli imprenditori di Lecce siamo riusciti a fare una raccolta ad aiutarli in questo e attraverso i mezzi alcuni messi a disposizione proprio dall'associazione Angeli Quartiere e con la nostra autodichiarazione di diciamo di trasferimento dall'Italia all'Albania siamo riusciti a portare questi indumenti ma in Turchia abbiamo dovuto siamo stati bloccati all'aeroporto di Bari perché abbiamo dovuto trattare prima di farli decollare attraverso il container proprio gli indumenti con l'ipercloro questo per dirti c'è una grandissima disinformazione e nello stesso tempo anche disagio da parte di chi vuol donare e in questo anno solare non può più farlo quindi noi quando ritiriamo scusami Tonia però non è ho capito che non si possono donare mi va benissimo che una persona non dona però comunque un qualcosa se una persona vuole dare qualcosa si deve mettere devono anche cercare di mettere in condizioni la persona di essere di rispetto è un discorso quello che dici tu è un discorso di rispetto perché non è giusto che io vado a comprare la mia roba perché stati tranquilla che se non va a finire in discarica va a finire in discarica a cielo aperto stati tranquilla mille per mille lo preferisco perché tra l'altro Tonia i bidoni per la raccolta di indumenti usati ci sono però arrivano ti faccio questo esempio perché deve essere da monito anche le amministrazioni che amministrano le varie città allora se ci sono fatte convenzioni con delle ditte che vengono fanno lo smaltimento poi dei indumenti usati perché un bolognino per l'altro la persona gli rincresce il fatto di andare a donare ok allora io sono del parere che bisogna andare a donare comunque anche una persona vicina anche una persona bisogna donarli ma se una persona allora cosa succede che si riempiono i bidoni colmi i bidoni non vanno a trovare l'altro bidone vuoto eppure che lo fanno sono sempre pieni li lasciano vicino quindi il vicino cosa succede che diventa una discarica a cielo aperto vicino al bidone stesso perché una volta al mese vengono a raccoglierli e gli stessi loro cosa fanno raccoglono che c'è il bidone perché quello che ormai c'è a terra non vale proprio la pena raccoglierlo secondo il loro punto di vista ma questa è una cosa che viene a parte l'obiettivo da Tonia cosa ti ha spinto proprio la cosa ha spinto Tonia Rivez perché Angeli di Quartiere nasce per Tonia Rivez parliamoci chiaro io ho visto cosa ti ha spinto a far nascere proprio questa associazione e poi soprattutto gli obiettivi Tonia allora sicuramente mi ha spinto la curiosità perché tutto nasce da un incontro telefonico da una chiamata di un amico che non dimenticherò mai che ringrazierò e lo nomino spessissimo che attraverso un messaggio mi chiede cosa stessi facendo era la sera tardi e nel frattempo io chiedevo a lui perché mi stesse facendo questa domanda e lui mi rispose che stava andando a recuperare presso la sua casa al mare un materasso per un senzatetto e lì per lì proprio perché era frutto di uno scarto casalingo lo fermai dicendo guarda io ho appena dismesso un materasso senza andare a San Cataldo se vuoi posso donarlo io però voglio sapere a chi va quindi io quella sera erano oltre le 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 undici un quarto undici e mezzo di sera in pieno inverno ci ritrovammo nel mio garage e da lì caricammo in tre mi piace conoscere Fabio che poi è diventato anche lui costruttore di questa associazione e di là insomma siamo andati a consegnare presso il materasso caricato in macchina e l'abbiamo consegnato e da lì ho conosciuto un mondo quello della notte fatto di freddo fatto di non lagnosità ma di bisogni nascosti negli angoli e nei vicoli della città dove ci sono vite ci sono polmoni che respirano anche affannosamente sotto il freddo che anche lì non chiedono niente ma che un bicchiere di tè caldo di cioccolata non lo negano ed è iniziato in quel periodo una mia scommessa personale non venivo da un periodo bellissimo della mia vita anzi di profonda riflessione e devo dire che davanti a tanta tanta miseria tanta fragilità mi sono dato un pugno in faccia da sola e mi sono detto di cosa mi lamento io e quindi mi sono messa in discussione e da lì abbiamo iniziato a costruire veramente come quattro amici al barra l'impegno costante di andare quando avevamo quasi tutte le sene in stazione a portare oltre che una cosa calda a chi trovavamo ma anche una parola di conforto una preghiera insomma cercavamo di stare vicino uscivamo tutti alle nove e tornavamo oltre la mezzanotte e mano a mano abbiamo mappato tutta la città e da lì si è capito che veramente esiste una popolazione notturna che vive anche il giorno ma in modo invisibile e in modo altrettanto invisibile vive la città alla notte e da lì è nato prima sono nati gli angeli della notte che sono ritornati da un paio di mesi abbiamo riformato quel gruppo originario e adesso e poi ci sono sono nati gli angeli di quartiere perché perché partendo dalla notte ci siamo svegliati abbiamo poggiato lo sguardo anche davanti alla città di giorno e arrivando in tutti i quartieri se ci chiamiamo angeli di quartiere è proprio per questo perché la città che è il centro pulsante di una comunità è fatta ovviamente smembrandola è fatta di tanti quartieri ogni quartiere ha la sua la sua realtà la sua criticità le sue difficoltà e attraverso quelle che sono le sentinele di quartiere che possono essere rappresentate da un parroco da un vicino di casa da un nostro volontario presente nell'associazione si vanno a individuare e a mettere su quelle che possono essere le esigenze gli obiettivi sono quelli quelli che stiamo già realizzando quelli di essere presenti in tutti i quartieri di Lecce quello di aver dialogato di dialogare ogni giorno con tutte le parrocchie di Lecce e poi essere usciti fuori comune oggi è la notizia freschissima ed è simbolicamente come se te la stessi consegnando Davide abbiamo appena e avremo modo sicuramente di di consegnartela di persona abbiamo stampato la maglietta Angeli di quartiere Calimera la nostra vicepresidente chiaramente sono lusingato perché quando si fa qualcosa di volontariato Calimera sì vabbè le lacrime stanno uscendo Tonia scusatemi però lo so lo so l'ho vista l'ho vista anche questa è tua sì sì abbiamo dato la notizia oggi sia di Calimera ma anche a Ruffano che è un paese che io amo molto perché sono legata da sinceri affetti familiari e Calimera non perché voglio voglio come dire no dire la mia però Calimera comunque ha tante situazioni ma non voglio che ci sia una distinzione perché io parto dal da quel presupposto perché le associazioni sono tutte uguali specie quelle che operano al volontariato io questo tengo a precisare sono tutte amiche e questo frangente il lockdown ha fatto capire veramente veramente che fare volontariato è importante perché un domani un domani può ritornare perché quando tu crei e fai poi un domani qualcuno ti aiuta io mi auguro io sono stato aiutato non me ne vergogno non me ne vergognerò mai quindi ci sono persone che incappano scusate ma le lacrime veramente stanno scendendo non mi è successo mai in diretta ma credimi Tonia era motivante la cosa e lo sai lo sai e sono orgoglioso da tanti anni sei una persona talmente semplice e umile sei bello anche per questo Davide la bellezza non è quella esterna esteriore ed estetica io quando parlo di belle persone parlo di persone che sanno innanzitutto non dimenticare con chi sono partite da dove sono partite e come dici tu anche da chi a volte senza chiedere sono state perché il bisogno chi veramente ha bisogno non lo chiede ma si comprende e solo chi ha il cuore predisposto lo sguardo predisposto l'orecchio predisposto a quel bene lo fa inconsapevolmente attraverso una parola attraverso un gesto attraverso anche delle sostanze dico io che possono essere il denaro gli alimenti per noi eccetera e chi e chi riceve inaspettatamente proprio perché non ha chiesto non dimentica e questo credo che sia il fatto sai quanta gente che noi aiutiamo e che poi attraverso noi ha ripreso a vivere in maniera un po' più dignitosa finisco questo concetto si è rimboccata le maniche e ci ha aiutato ed è diventato volontario insieme a noi e sono i primi il problema il problema è che in questa società invece in questo momento una persona che chiede no non dico che vi sta male ma comunque hanno una dignità quindi avendo una dignità personale nessuno va a un'altra persona e a chiedere perché anche dall'altra parte come tu hai detto se c'è una persona che ama capisce ascolta beh si mette un attimo la mano sul cuore però c'è gente che male pensa magari tu lo stai facendo perché veramente hai un bisogno urgente stretto lo sai non è che non lo sai un bisogno stretto tu ce l'hai e quindi in automatico devi per forza fare qualcosa perché se no stai in mezzo ai casini però c'è gente che dall'altra parte dall'altra parte quello che sta quello che dice la persona che te lo sta chiedendo ma le pensa ma questo chissà che caspare mi sta chiedendo e magari quella persona si sente in imbarazzo anche perché te lo sta chiedendo purtroppo la società è una società molto malata devi valutarle queste cose devi valutarle non perché Davide ci sono i due risvolti della medaglia come in tutte le realtà ci sono le persone abituate a non chiedere per dignità e ci sono quelle che vivono anni e anni della loro vita continuando a chiedere pur quando non hanno bisogno e il concetto avvolto dell'andar lavorare o il concetto di magari di non chiedere e di riuscire a trovare una motivazione per alzarsi la mattina e guadagnarsi non dico chissà quanto ma comunque il pane quotidiano non è da tutti e basti pensare un po' a quello che è successo in questi ultimi anni attraverso un reddito di cittadinanza che ha aiutato e ha dettato un po' di ossigeno a tantissime famiglie italiane allo stesso tempo ha creato in caratteri o in persone che magari erano un po' mentalmente fragili o comunque tra virgolette anche un po' meno propense al lavoro di cullarsi un attimo su quel reddito fisso che magari arriva a fine mese e queste cose ovviamente creano dei grossi imbarazzi per noi delle associazioni perché noi cerchiamo poi ti faccio una parentesi su questa cosa la mia battaglia diciamo è una battaglia diciamo grosso modo bella perché una persona che lo prende deve lavorare o meglio se non può lavorare deve prestare servizio presso qualche associazione civile certo certo io io sono io lo percevi c'è giustamente uno quando lo percepisce sa cosa sta percependo e sa pure i rischi che va incontro però chiaramente chiaramente bisogna anche capire che una persona è propensa a lavorare deve lavorare per poter mantenersi ma se c'è il reddito di cittadinanza non ne non facciamo i furbetti perché i furbetti in questo momento non ha non hai scampo allora è meglio preferire fare due tre ore la settimana ad associazioni fare volontariato che comunque sono sono inclusive anche nel tuo stesso come dire nella tua stessa abilazione naturale ti devono includere a fare qualcosa chi sa mai che cosa diventerai ma cioè c'è questo io secondo me bisogna iniziare a lavorare su questo modificare per prestare io dico modificare il reddito di cittadinanza per poter lavorare per poter prestare servizio anche 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 sociale perché secondo me una persona che ha fatto sempre del bene quando va a farsi due o tre ore non li pesano nemmeno capisci Mitonia poi parliamo di un'altra cosa avete giustamente state portando avanti tante iniziative ma tante 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 e e cosa prevedi per il futuro oltre a quello delle fedi no diffuse io io prevedo che di riuscire attraverso speriamo che si riprenda da settembre attraverso la riapertura delle scuole di creare un bellissimo servizio civile per i ragazzi un'alternanza scuola lavoro che consenta loro di essere dipendenti di una bellissima dipendenza che si chiama volontariato e credo che se riusciamo e se riuscissimo a fare questo come operatori come educatori eh volontari a far inculcare questo concetto di solidarietà e di altruismo di civismo attivo nei ragazzi nei nostri figli credo che raggiungeremo il successo bisogna portare l'educazione civica a scuola e deve partire dalle associazioni lo sto dicendo e non lo facciamo mai bisogna riportare tra prassi e teoria teoria e prassi c'è sempre stata una sostanziale differenza quando parlo con te escono visto che escono le cose cioè escono le cose automaticamente perché tonia quando abbiamo noi io e te abbiamo seguito un percorso diciamo quasi uguale poi per scelte ci siamo un attimino separati però sempre in contatto ci mancherebbe altro però la cosa bella tonia è che purtroppo la scuola deve iniziare anche quella a modificarsi ma non come riforma proprio come percorso di studio ci sono materie che prima c'era proprio il libro di educazione civica adesso non esiste né il libro né l'educazione civica dico io allora iniziamo iniziamo a far conoscere gli articoli della costituzione ragazzi iniziamo a far capire che cos'è il territorio l'ho sempre detto e lo continuo a ripetere perché l'educazione civica quando tu esci dalla scuola cambia aspetto si divina una lezione di diritto diciamo diritto ma non è diritto educazione civica penso che qualche errore errore orrorone i ragazzi attualmente non lo commettono poi un'altra cosa un'altra domanda Tonia perché a Lecce grazie Tonia Enriquez finalmente dico si è arrivato avete raggiunto l'obiettivo di di riuscire ad essere in sinergia con le altre associazioni è vero o non è vero come no questo è uno dei primi obiettivi nel senso fare la famosa rete che tanto viene proclamata io mi sento soddisfatta perché a parte qualche tavolo tecnico in cui ho partecipato ma il fatto che comunque le associazioni ci chiamino e dicano vogliamo collaborare con voi siamo con voi e noi andiamo a caccia di associazioni predisposta a questo tipo di rapporto perché credo che non ci sia concorrenza e non ci debba essere concorrenza a chi più è bravo o chi ha più forte o chi ha più conoscenze sarebbe proprio come dire lasciare mettere da parte tutte queste convenzioni che sono quelle proprio umane quelle un po' più negative quelle brutte che fanno dell'umano il genere a volte più più terribile perché più come dire è posato ma nello stesso tempo ha uno slancio di interesse diverso di personalismo qui abbiamo lasciato veramente tutti titoli professioni personalismi ci siamo messi come il signore ci ha fatto nudi e crudi d'animo ma nello stesso tempo predisposti appunto a stare insieme quando si raggiunge questo si parte dallo stesso obiettivo e quindi si vuole raggiungere poi lo stesso traguardo credo che la sintonia sia dovuta e sapere che esistano delle associazioni che possono completare il tuo servizio e migliorarlo e nello stesso tempo fare proprio un segmento di congiunzione io arrivo al punto B dal punto B parte un'altra associazione che raggiunge il punto C immaginiamocela come un giochino geometrico ecco si riesce veramente a invastire una rete fittissima dove si può andare oltre comune oltre regione e oltre chissà quante altre noi siamo arrivati in Albania siamo arrivati in Turchia e abbiamo parlato avuto rapporti con ambasciatori quindi questa cosa ci ha solo arricchito ma non di denaro ci ha arricchito di esperienza e di grandissima soddisfazione lo possiamo dire a testa alta e io sono orgoglioso di farne parte lo dico lo dico pubblicamente come sono orgoglioso di tante associazioni ti perseguiremo a Calimera ti perseguiremo a Calimera tu ci seguirai con grandissimo affetto indosserai questa maglietta guarda che per noi ha un significato lo so lo so io te lo dico chiaro non ho pedi sulla lingua le associazioni presumo mi cercano mi cercano perché ho questa dialettica questo modo di parlare questo modo di tra l'altro mi dicono di averlo di averlo perfezionato ma io purtroppo è vero è vero da mica te lo posso te lo posso confermare sei migliorato sì ragazzo sei migliorato diciamo che quando inizi ad assaporare ciò che veramente è la vita attuale quindi inizi come dire a fare cagli alle mani caratonia e il percorso ma tu hai avuto anche un grande maestro non dimentichiamocelo lo so lo so il maestro il maestro ce l'ho lì ce l'ho sul mobile e quindi ce l'ho sul mobile e quindi lui mi ha insegnato tanto però poi è il tuo angelo custode stiamo parlando di angeli e ognuno di noi se parte anche con dei progetti guarda Toria io devo esserti sincero se tu vedi la mia bachiega poi ti faccio la foto e te la faccio vedere c'ho un altario dove c'ho tre tre persone di cui la nonna e l'amico lo dico perché non me ne vergogno Giancarlo Martano che è stato il mio maestro in tutto ciò e lui lui non voleva lui non voleva che io parlassi al microfono perché non non ero in grado di parlare però poi dagli dagli e dagli poi alla fine ci siamo pure riusciti a farmi ritoccare il microfono come avete visto e e poi viena 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 Luigi Russo Luigi Russo è il comunicatore sociale e lui lui veramente mi ha insegnato tanto io ho queste tre persone nel cuore e nessuno credo nessuno mi deve toccare tra l'altro lo dico pubblicamente mi hanno conferito anche cavaliere quindi attualmente sono cavaliere di un ordine cavaleresco di Padre Pio perché comunque io sono un volontario e quando si è volontari si sa benissimo chi è il protettore dei volontari Tony è Padre Pio quindi io sono iscritto a quell'ordine perché mi è stato conferito diciamo per merito io quello che faccio e tu mi conosci perché mi piace farlo io sono iscritto in 150 associazioni in un numero ipotetico sono iscritto veramente in tante perché imparare l'arte e mettere la te parte io voglio lavorare voglio collaborare con l'associazione perché le associazioni in questo momento sono state importanti e lo continuano ad essere ritorniamo a noi hai riscontrato alcuni problemi dell'organizzazione del personale della gestione delle risorse Econia e poi per esempio in alcune associazioni i volontari devono comprarsi la divisa e poi un'altra domanda e poi mi rispondi a due aspetti rispondi all'altra avete mai ricevuto qualche contributo aiuto dalle istituzioni? insomma un bel po' di domande impegnative ma ti risponderò gradualmente per quanto riguarda diciamo l'organizzazione del personale la gestione delle risorse ovviamente noi all'inizio soprattutto ci siamo autotassati noi prima di costituirci Davide abbiamo lavorato di brutto e alla grande con le nostre forze prima di scommettere di potercela fare come gruppo e cercare di attrarre quanta più gente possibile soprattutto amici perché il passaparola tu me lo insegni e la stima la fiducia che uno ha è importantissimo e metterci la faccia soprattutto dal punto di vista della solidarietà adesso si parla sempre di solidarietà di volontariato il primo approccio con il parterre anche di ascolto è sempre dire ah ma io sono altruista ma io faccio questo ma ho fatto quest'altro se non ce lo chiedo non glielo diciamo noi quindi è tutto un discorso estremamente legato anche a un volersi mettere diciamo in mostra se invece le cose si fanno io dico sempre che quello che noi diciamo attraverso le pagine è per rendere pubblico l'aiuto che ci viene dato nel momento in cui noi ci siamo costituiti abbiamo sancito una regola uno statuto delle presenze di persone responsabili di questa decisione di questa costituzione noi dobbiamo dare conto anche alla comunità così come diamo conto di quello che diamo dobbiamo dare conto la comunità di quello che riceviamo avendo aperto un conto bancario avendo un codice fiscale avendo a questo punto anche da quasi un anno la faremo un anno anche la possibilità di un 5 per mille sinceramente non possiamo tirare indietro la visibilità di ciò che ci viene ogni giorno donato e a volte anche chiesto di darne visibilità perché chi dona a nome di altri o di aziende o di associazioni o di enti o di club deve dare conto ai suoi soci e molte volte viene questo raccontarsi nelle pagine noi abbiamo delle pagine proprio sia dell'Angeli quartiere Lecce abbiamo quella di Surbo e quella di Castromediano ora stiamo pensando di unire tutte in base a queste aperture prossime che ci saranno un'unica pagina e quindi poi fare un come dire un editoriale settimanale che consenta poi di dare le informazioni di tutto quello che accade o alla settimana o nel mese in corso ma questo conoscendo Tonia non è che non poteva conoscendo Tonia poi Tonia è una ragazza è sempre una ragazza che è puntuale stiamo andando con gli anni lo sai lo sai che io sono così lo sai cioè puntuale e precisa perché bisogna ragionare in quell'ottica bisogna essere faccio capire anche a chi ci sta seguendo Tonia ecco perché dico queste in associazione di volontariato ma tanto ce lo saranno anche una domanda dopo proprio c'è una ci sono proprio delle regole che sono dettate dal nuovo regolamento specie con il 5 per 1000 devono per forza dare conto di tutto ciò che viene fatto bisogna rendicontarlo e renderlo pubblico c'è proprio un articolo del nuovo statuto al di là una questione proprio di forma quindi quella che viene a volte accusata di essere super visibile noi dobbiamo dare conto perché non sei il privato che prende va e lo fa in silenzio come giusto che sia sei invece un qualcuno che rappresenti un qualcosa e a nome di quello ti esponi quindi se io non lo facessi se io non dicessi ho ricevuto 10 euro da Davide in questo giorno e con quei 10 euro ne ho spesi 11 non 9 11 euro per comprare due pizze a una famiglia dove ci sono due bambini sinceramente tu già inizieresti anche a pensare male di come vengano gestiti quei soldi quei denari se io ho iniziato a fare questo molto probabilmente nessuno se lo chiede non penso che io mi sia approcciata al mondo del volontariato della beneficenza così calata dall'alto senza nessuna perdonami molto spesso dice scusami mi devo interrompo perdonami molto spesso dicono ma ci sape quanto sta a buscare questi buffando beneficenza non è così quante volte lo dicono quante a volte lo dicono le stesse le stesse associazioni non lo dicono i privati non lo dicono le persone nelle realtà locali nei piccoli paesi è così è così ci sape quanto sta a buscare questi buffando beneficenza no no primo secondo dicono dicono molto spesso le associazioni si devono autotassare molto spesso vanno fuori bilancio quindi quelle risorse che hanno accantonato devono di nuovo ripetere in gioco i loro fondi che possono superare addirittura molto spesso anche l'intero incasso di un'intera di un'intera donazione non è facile quindi io dico sempre dico sempre questo l'ho detto anche agli altri prima di dare di attaccare associazioni individui o via discorrendo specie quando si parla di beneficenza mettetevi una mano sul cuore perché il tempo non viene retribuito il tempo dedicato all'associazione specie che è e giustamente quando si è pensato è normale che si deve fare qualcosa non è che vuoi stare a casa però se c'è gente che lavora molto spesso trascina o meglio non fa il proprio lavoro per poter dedicarsi a fare volontariato che poi diventa una professione ma una professione non ritribuita dico io scusami ancora no 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 ma è così a volte chi ci critica sono proprio le altre associazioni perché pensano appunto che anche così molti come pensano che l'associazione sia mia nel senso è mia me la gestisco io ma avrei fatto una società o avrei fatto una SASS una SRL l'avrei chiamata impresa non associazione e però poi queste cose io dico sempre scivolano proprio così sulle persone che vogliono additare criticare cioè troveranno sempre il motivo io dico soltanto che solo chi fa non sbaglia e solo chi è bravo solo a parlare e a mettere in come dire in ridicolo ma anche in grandi difficoltà situazioni che non sono interpretabili o comunque non sono da da criticare lo fa solo con lo spirito di tirar verso di sé quella visibilità che non gli è stata data giusto per aprire la bocca come si suol dire noi possiamo andare a testa alta perché fino adesso insomma grazie a Dio la gente che sta sia all'interno dell'associazione noi abbiamo professionisti abbiamo nonni in pensione abbiamo di tutto di più come anche le famiglie che noi stessi abbiamo aiutate e che si sono iscritte proprio conoscendo il nostro modo di fare attività di volontariato e credo che sia la soddisfazione più grande io dico sempre se non ci credi fallo fallo se non ci credi se non ci credi sfruttaci cioè nel senso entra vieni chiedici cosa c'è da fare e lo facciamo insieme io se sono all'interno dicevo all'inizio proprio ho iniziato a fare questo è perché io per prima non mi sono fidata pensavo male o comunque andavo troppo lontano ad associazioni nazionali internazionali ad onlus quando poi avevo dei bisogni da soddisfare di comunità vicino alla mia e andavo a fare del bene altrove ecco perché poi è nata l'idea proprio di una di una comunità che pensasse e che pensa alla comunità stretta vicina della porta accanto del quartiere accanto della notte del giorno del pomeriggio del bambino dell'anziano noi abbiamo attivato prima di Natale un altro progetto che si chiama Ci penso io che diamo la possibilità alle famiglie che stanno un passo avanti rispetto a quelle fragili di preparare un pasto in più nel senso che se devo cucinare per 10 persone cucino per 12 di 5-2 di due pasti ci consentono di poterli dare a una coppia che magari vive da sola che non ha una cucina non ha un piatto da scaldare tu hai la possibilità di fare del bene stando a casa tua noi veniamo a casa tua lo ritiriamo che sia un dolce un primo un contorno se tu ci avvisi in tempo noi riusciamo a fare della tua disponibilità la disponibilità di un altro volontario che unirà a quel secondo un contorno a quel secondo il contorno un primo e magari qualcuno fare un pasto completo e darlo a una persona che comunque è come se si adottasse una famiglia e questo è un altro degli obiettivi che vogliamo mettere anche in conto di poter raggiungere io Tonia chiaramente parto sempre dal presupposto delle nonne il motto delle nonne se cucino per tre ci mancherebbe uno cucino per quattro dove c'è pasta per tre basta pure per quattro non è quello basta fare un po' siamo crescuti con questo con questo concetto e con questo valore il mangiare secondo me è importante però credimi io io amo io guarda che non sai quanto quanto veramente quando vedo in tv vedo vi vedo perché fino a adesso entro a far parte attivamente però prima vi vedevo in tv anche sui servizi di rama e quanto altro vedere voi che stavate in giro sempre anche con le altre associazioni guarda dico ma come fanno come fanno però poi quando inizi a saporare io voglio fare qualcosa per il mio paese e per la provincia di Reci voglio fare qualcosa mi sento ti viene proprio dall'anima cioè le persone non verranno mai a chiederti lo dico sempre dammi un piatto di pasta perché ci sono veramente gente Tonia che veramente dico stanno stanno male proprio ci sono per non toccare i barbini i closer di strada i i barboni senza detto i senza detto per strada quella è un'altra realtà che dico di me qua non c'è nessuno nei paesi però a Lecce ancora tuttora Piazza d'Italia ieri sera c'era un bordello di persone io dicono basta andare ad attaccare fate 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 di sgomberare fate di bene io dico ci sono persone su Facebook che criticano cioè se una persona non ha tetto si deve andare a rimarare sotto qualche parte cioè fa parte proprio della genesi umana andare a mettersi sotto un tetto allora se non c'è disponibilità creiamo uno spazio dove la gente può andare a mettersi lì dentro io lo so che fa brutto vedersi sotto un monumento un senza detto è bruttissimo come è brutto vedere anche sotto i monti capisci Mitonia però secondo me bisogna iniziare veramente a creare un incubatore perché alla fine poi diventa anche indecoroso per la città vedere tutte queste persone perché anche loro poi iniziano a fare i loro bisogni diciamo iniziano ad essere un attimino anche un po' scomodi però andare ad attaccare non è un buon senso rendiamoci utili certo certo hai pienamente ragione mettiamo i posti attacchi no mandate le persone mandate i vigili no non mi interessa fate qualcosa e aiutiamoli no? ti rispondo ti rispondo alla domanda se siamo stati aiutati mai dagli enti noi siamo stati aiutati da club privati abbiamo avuto ordini professionali che ci hanno aiutato comuni no devo essere sincera il comune che è quello che magari è più usufruisce del nostro servizio perché come noi ce ne sono tantissime associazioni che fanno del bene in città in maniera più o meno chiassosa o silenziosa ecco no noi non su questo non mi sento di dire pubblicamente sì siamo stati aiutati abbiamo avuto il percorso facile a volte anzi è quello più insidioso perché non è facile l'aspetto burocratico è molto affannoso sì molto affannoso e non lascia ampi spazi alla libertà di pensiero quindi noi siamo in attesa speriamo di poterti invitare a Lecce all'inaugurazione quando sarà possibile anche abbracci e inaugurazioni adesso dovremo sicuramente rimandare da qui a un anno però speriamo di avere la sede a Lecce cosa che ancora non stiamo tribolando quindi insomma vediamo che succede arriveremo chiaramente arriveremo anche a quello per forza la tenacia la tenacia c'è il mio carattere è un tantino insistente e quindi insomma arriveremo a un compromesso che poi assolutissimamente non è un compromesso umano perché o me lo daranno la sede me la daranno per insopportabilità e quindi per compassione oppure perché per finimento oppure insomma perché arriva noi siamo stati Davide siamo stati abituati a lavorare anche per strada noi i panini li facevamo in macchina e quando abbiamo lavorato con la protezione civile stavamo sotto due tende con il tempo bello e brutto quindi non ci spaventa nulla insomma la sede è solo il punto la sede è solo il punto perché la gente possa trovarci consegnare le sue cose vedere come vengono smaltite donate a chi è tutta una serie di diciamo è com'è ospitare il donatore a casa dico una cosa noi siamo siamo stati sempre abituati a stare per strada io io ti ricordo sempre manifestazioni quanto altro quindi la strada noi la conosciamo la conosciamo anche molto bene abbiamo messo la faccia io metterò sempre la mia faccia sempre la mia faccia è pulita e lo dirò a chiunque quindi io quando faccio del bene non lo stiamo rubando un'altra cosa no assolutamente pregi e difetti di un volontario pregi e difetti di un volontario questo è te allora i pregi i pregi essere predisposto appunto all'ascolto all'attenzione verso i problemi bisogni della comunità e essere disponibile non necessariamente come tempo ma proprio come predisposizione mentale perché noi abbiamo volontari che sono a casa e che sono ugualmente reperibili operativi da casa dalla propria scrivania della del loro posto di lavoro dalla sedia dove stanno magari facendo dopo scuola ai propri nipoti ai figli quindi si riesce ad essere volontari anche da casa dico io e poi il difetto invece che io credo cioè un difetto un buon difetto è quello di non essere molto buoni nel senso non vorrei essere malcapita nel senso che devono iniziare a filtrare anche quel tipo di necessità perché se come soprattutto anch'io ci sono caduta inizi ad ascoltare tutti e a credere anche a tutto inizi ad essere fagocitato da un sistema più grande di te e quindi tornando al discorso di prima che c'è chi chiede spesso e sempre anche quando non ha bisogno come quando in una famiglia c'è sempre quello che si piange addosso pur non avendo bisogno di farlo insomma perché comunque è un familiare un fratello un amico però lo si fa giusto perché alla fine si ottiene sempre qualche cosa ecco essere il difetto del volontario che non deve diventare un difetto ma che rischia poi di esserlo e cercare di avere un certo distacco e quel certo distacco significa avere la lucidità di comprendere la reale necessità di quel momento tra i tanti bisogni che vengono chiesti dalla stessa persona quindi diciamo queste cose sono i pregi e i difetti ci sono in un volontario perché comunque questi sono veramente delle cose toccanti io faccio le ultime tre domande per poi congedarti allora innanzitutto una domanda importante no qual è l'esperienza più gratificante che vive un vissuto durante il servizio un volontario cosa cosa si prova io questo che chiedo quando tu vivi una situazione che cosa prova un volontario o meglio cosa prova Tony Enriquez tu hai detto già ma parliamo più ampio perché le emozioni poi sono divise tra volontari uno può provare una cosa uno può provare un'altra ma poi sostanzialmente è quello cosa prova Tony il volontario quando presta servizio cosa lo gradifica di più se c'è un'esperienza infatti sono delle emozioni contrastanti c'è l'emozione forte che è quella del piacere di aver dato e di aver contribuito a un sorriso ad aver ricevuto quel grazie inaspettato quella con quella sensazione di benessere psicologico che è data al fatto che sei riuscito a far qualcosa e a soddisfare un bisogno dall'altro e contrastante c'è la rabbia la rabbia di poter vedere una situazione del genere in uno stato di famiglia uno stato di solitudine che può essere quello di un anziano solo quello di un bambino sul quale grava un problema di salute o una mamma in una famiglia che non sta bene e che comunque non riesce a gestire l'economia della famiglia proprio perché non può lavorare sia soggetta magari alla madre anziana con la sola pensione ecco quello è uno stato di rabbia che spesso e volentieri purtroppo dobbiamo affrontare e quindi la nostra tenacia è quella di cercare in qualche modo di abbracciare la famiglia quanto più è possibile proprio per cercare di non farla sentire da sola esperienze gratificanti le abbiamo avute proprio un anno fa quando noi consegnavamo i pacchi in una città talmente desolata vuota ferma bloccata congelata una bambina un nostro volontario proprio a Fabio nel momento in cui davamo sapeva perché noi chiamavamo proprio perché c'erano anche famiglie positive quindi noi avevamo tutta una procedura per lasciare anche gli alimenti fuori da porta io positivo lo so perché sono stato io positivo e so che anche prestavo servizio sono stato quindi ho fatto anche servizio proprio sui civili a castri quindi so cosa significa e quindi c'è tutta una procedura la conosci bene dove noi lasciavamo il pacco ecco una bambina mentre facevamo questo e sapeva che noi saremmo andati ci ha consegnato un disegno che io ho usato come immagine di copertina per l'intero mese di marzo e di aprile tutto andrà bene con l'arcobaleno e gli angeli il disegno con noi angeli che davamo appunto le nostre buste ecco quel disegno è diventato un quadretto il volontario non l'ha ceduto all'associazione ce l'ha con sé e credo che sia la gioia più bella poi riscontrare appunto la soddisfazione di aver dato un sorriso e aver riempito quello stomachino di quella bambina che in quel momento sicuramente non se la passava bene è chiaro poi un'altra cosa cosa diresti a chi si avvicina in questo mondo e poi l'ultima domanda te la faccio per poi congedarti cosa diresti a chi si vuole avvicinare in questo mondo perché è un mondo tutto a parte il volontariato di provarlo per credere quello che si prova sentendolo raccontare da me e da chi ha fatto esperienza anche pregressa di volontariato solo mettendoci la faccia e sporcandosi le mani si può veramente toccare con mano la felicità e la bellezza del dono quindi semplicemente di diventare un po' dipendenti della solidarietà del volontariato e solo diventando dipendenti di questa bellissima sensazione si può capire cosa sia il dono l'ultima domanda per poi lasciarci lasciarci ma lasciarci virtualmente ti chiamerò dopo ti chiamerò dopo al cellulare e i social network in questo ultimo momento Tonia non è solamente una volontaria è anche una mamma è anche una zia e è una è una persona diciamo che ha la sua vita personale in questo momento si sta si sta verificando questo questo social network questo diciamo questo grande social network questi grandi fenomeni di challenge e quanto altro siccome io come blog sto portando avanti la battaglia quella di sapere usare la rete farla nel giusto modo Tonia i social network tu come vedi i social network che consigli dai ai ragazzi per usarla al meglio non si può sentire il 2021 già ripeto già da un bel po' che non si sentono morti per challenge quindi già diciamo l'opinione pubblica i mezzi di comunicazione hanno fatto la loro parte quindi diciamo che queste morti sono scampate diciamo non si sentono più però cosa cosa dai cosa dici Tonia in merito a tutto ciò io come educatrice come giustamente anche come mamma come hai detto tu come lavoratrice libera professionista devo dare moltissimo riscontro sulle potenzialità positive se usate bene dei social io ne sono un esempio nel senso a volte o sono troppo distaccato o sono troppo dentro ed essere troppo dentro significa anche farsi conoscere tirar fuori il meglio e il peggio di ognuno di noi che credo faccia parte anche di quell'aspetto che ognuno di noi vuole vuole poi far passare nel senso che ovvio nessuno mette sul tavolo ciò che non vuole insomma che si sappia che vuole che non si sappia quindi sicuramente c'è una scelta consapevole dell'uso giusto ed onio dei social ogni tanto può sfuggire di mano però ognuno poi si deve prendere le proprie responsabilità io dico sempre che schiacciando quel tassino invio è come scrivere una mettere nero su bianco su un foglio insomma non è che siamo attraverso uno schermo ci sentiamo o tutelati o difesi assolutamente siamo ancora più compromessi su quello che scriviamo pensiamo a maggior ragione quando poi il nostro profilo è fatto di nome e cognome non è un falso profilo non è una un come dire un volto sconosciuto ma c'è una faccia c'è un pensiero che che naviga nell'etere quindi può raggiungere chiunque in qualsiasi momento e può essere rieletto e anche come dire interpretato in qualsiasi modo l'importante anche perché poi si perdono le sensazioni gli umori fatti da un discorso verbale quindi è tutto molto asettico se vogliamo però il concetto passa il pensiero passa a volte può essere travisato può essere malcapito questo fatto che io sono amica a volte sul social non lo sono nella vita al contrario è una sensazione un po' particolare un po' alterata però per quanto mi riguarda se se ne fa un uso giusto ponderato ovulato e diciamo attento accorto può essere una una gran bella vetrina ecco del pensiero con quello che è la nostra attività di associazionismo diciamo che si possono come dire io gli dico consacrare tutto ciò che tu fai se usi bene i social o può essere un acceleratore in più quindi mettere una marcia in più oppure proprio come io dico consacrare l'attività che tu fai se tu lavori bene e semini bene e ti scegli le persone bene risulta questo questo vale vale per tutto Davide chiaramente Tonia ci sono percorsi e strade diciamo io ho un po' di comunicazione in stato del settore Tonia l'ho dovuta per forza fare l'ho dovuta per forza mi sono dovuto mettere da solo studiare perché io sono migliorato sì me lo dicono però molto spesso dico anche che bisogna avere spirito nel perseverare ciò che tu è una passione quindi iniziare la rettica iniziare più più tecnica diciamo l'esperienza del suo percorso però chiaramente chiaramente l'attività di social in generale può essere diciamo la consacrazione di attività che tu fai io ho la stessa cosa ma ci sono tante associazioni io secondo me voglio anche far capire anche ad altri colleghi che chi effettivamente la butta la butta non perché me ne vogliano male però lo devo dire chiaro l'essere troppo sboccato in rete ti fa passare quello che tu non sei perché sostanzialmente tu non sei una persona buona però in rete ti dimentica attivo cioè ormai le persone ti vedono su facebook la tonia pure una volta l'ho sentita alterata però poi si è calmata subito un tratto c'è parte e poi si calma in un video fatto però aveva perfettamente ragione la ragione si fa con la calma questo è quello che tutti gli amici mi hanno perché ognuno conosce se stessi quindi sa come come deve muoversi sa come deve reagire però usare facebook secondo me tonia è il concetto base che hai detto sapere di usare io saluto l'amica tonia tonia sono onorato lusigato di farne parte ufficialmente questa sera dell'associazione angeli di quartiere sono sempre a vostro scopo lo sai che io questo te la verrò a dare di persona lo voglio lo voglio vediamo a Calimera quando vuoi sai che Calimera straniera tu non sei per tanti e tanti motivi quindi tu sei mezza caliverese dai lo diciamo le togli e mezza come no molto va bene tonia ci aggiorniamo subito dopo la la nostra intervista e ti ringrazio e ciao a tutti vi voglio bene domani avremo un appuntamento io faccio anche l'appuntamento con la medicina domani avremo in diretta dottoressa Maria Lucia Santoro una pediatra quindi parleremo di medicina e quindi parleremo anche di pediatria ciao a tutti e buonanotte Radio K in collaborazione con Magilla Spettacoli presenta dimmi la tua interviste con i personaggi e gli artisti del momento ogni martedì giovedì e sabato alle 19.30 in diretta live sulla pagina facebook Radio K conduce Daddy DJ di Grazie a tutti.